Tu sei Mida Shafiq. Mida è il nome Shafiq. Mida, Mido, mi chiamano insomma, adesso anche la nipotina, Ghedomido, cioè Nonno Mido. Nonno Mido, ecco. Di dove sei Shafiq? Allora, sono dell'Egitto. Sei egiziano? Sì. Precisamente di? Allora, sono del sud dell'Egitto, diciamo metà strada tra il Cairo e la Suan, di Asiut, una città molto, una città universitaria che ha tanta storia dietro... Sei qui perché io ti ho fatto molti film. È vero. Che sono ormai preziosi e in archivio. È vero. Però vorrei rivederli con te per commentarli, è passato tanto tempo, per esempio qui abbiamo Città di Spoleto, ottobre 2001. Sì. Quanti anni sono passati, tu che sai parlare? Sì, sì. C'è già la pianificazione. Tanti anni, sono 22 anni, belli e pieni. Ecco, belli e pieni. E ci sei tu in tante inquadrature, giusto? Sì, sì. Ecco. Quando avevo i capelli neri. Eh, ma... C'era una volta. Sì, ma adesso stai benissimo. Ti ha fatto bene anche in vecchiare. Ci ha fatto bene in vecchiare perché ci distacca da quello che è il rumore del mondo. L'importante è avere l'anima linda. Linda. Ecco, come i tuoi capelli in questo momento, perché sono belli bianchi. Vabbè, comunque, proviamo a rivedere insieme alcune cose. Ci diamo diversi appuntamenti, no? Cominciamo con questa città di Spoleto, ottobre 2001. Sì. Perché, rimettendo a posto l'archivio, ho scoperto un film straordinario. E vorrei che tu me lo commentassi. Prima di andare avanti, vediamo se riesco a farlo partire. Ecco che è partito. Ecco, qui dove siamo? Siamo nella piazza di Spoleto, dove si trova di lato alla cattedrale il palazzo Raccani Arroni, quello che ha ospitato la mia installazione, appunto, Nidi di Luce. Eccoti qua. Sì, è l'impatto con la città, una città così ricca di civiltà, di emozioni. Entrando in quel palazzo, appunto, Palazzo Raccani Arroni, mi ha ispirato una storia d'amore. Sai, noi viviamo in una società dei consumi. Siamo vittima di un progetto globale che vuole appiattire e vuole renderci prevedibili per essere dei bravi consumatori, divoratori di consumo. Ecco, qui indichi, per esempio, che c'è della tua arte già anche in quei muri. Ma è un luogo, sì, certo, sono dei frammenti che rappresentano una stratificazione di civiltà, una stratificazione di bellezza. Questo luogo mi ha emozionato talmente tanto che ho pensato, appunto, di fare tutti questi dieci sale. Ah, dieci sale, direttore, non me lo ricorda neanche più. Sì, è un inno alla bellezza, un inno all'emozione, alla leggerezza dell'essere. E quindi è quasi un'introspizione in questo racconto amoroso che è stato ipotizzato da me in questo luogo. Cioè, tu hai fatto questo progetto adatto per questo luogo. Cioè, tutte queste cose che vediamo le hai fatte apposta. Apposta per questo palazzo. Per il dialogo con questo palazzo. Il dialogo ovviamente entra nella mia cifra espressiva, cioè il dialogo tra arte e architettura. È sempre stata una mia cifra espressiva. Io entro nel luogo rispettando tutti i suoi parametri, però cercando di esprimere mi stesso, il mio linguaggio, la mia cultura. Perché qui si sente molto la tua terra, la tua terra d'origine. Sì, c'è la suntuosità dell'Oriente, ma c'è anche l'introspizione. Ci sono le luci, ma ci sono anche le ombre. C'è uno spazio di emozione, che è una sintesi tra quello che sono come artista che viene da oltre il Mediterraneo e entra nel grembo dell'Occidente con il modo piacevole. Infatti qui si vedono in contrapposizione, ma no, non direi in contrapposizione, anzi in armonia si vede la cultura, l'estetica culturale occidentale che si sposa perfettamente con le tue opere che esprimono un mondo orientale. E' possibile? Non proprio, ecco, la mia ricerca è molto, diciamo, entra anche nel linguaggio, diciamo, è dibitrice la mia esperienza, ha tutta l'esperienza... Si, ovviamente, l'artistica, ha tutta l'esperienza delle vanguardie storiche, il linguaggio. Ah, certo, certo. Si, è una scoperta del linguaggio che diventa astrazione, ma quella astrazione che esprime un sottofondo, un croggiolo di significati, di contenuti. Quindi io ho imparato, diciamo, il linguaggio dell'arte contemporanea, il linguaggio dell'espressione dalle vanguardie storiche, ma per raccontare, ecco, una mia storia, un mio storytelling, chiamiamola, è una parola che si usa spesso oggi, ma che esprime comunque una mia idea sul mondo. Certo, certo. Cioè, questa mostra non è che è una ipotesi così ludica o entrare, vivere nella bambaggia dell'emozione sontuosa, dell'amore, dell'affetto, ma è una... vuole focalizzare la contrapunto tra il mondo del dato, cioè, e il mondo dell'emozione, e l'essere o il non essere, io la metterei in questo punto. Quindi è quasi un... questa mostra, questa installazione è quasi... è il dire io ci sono, io sono. Ecco, cioè, mi pare aver capito che nelle tue cose c'è molta Europa, molta avanguardia europea, che ha pulito, diciamo, tutto quello che è l'eccesso, diciamo, storico. Diciamo, ha raffreddato, ha velato, ha riuscito più... Cioè, sembra impossibile, ma questa immagine che vediamo, la ritroviamo, volendo, anche in quest'opera che stiamo vedendo in questo momento. Sì. Perché lì dentro c'è anche quello. Certo. Oltre che le avanguardie europee, via dicendo, come vediamo questa opera qui, se non ci fosse stata l'avanguardia europea sarebbe incomprensibile. E certo, ecco, quella compenetrazione tra scultura, pittura, spazio e architettura rende il tutto un linguaggio completo. È un linguaggio che parla al ventre, oltre che alla mente, all'emozione. E questo è sempre stato, diciamo, un aspetto... Guarda qua. Ecco. Qui c'è... Sì, c'è un desco. C'è un... Ci sono anche tanti maestri europei. Certo, ci sono rimandi, magari anche omaggi a... Ovviamente, ha tutto un insieme dell'avanguardia storica. Ecco, sono debitore di questo libro. Grazie a Dio penso di essere riuscito a trovare una mia cifra espressiva che mi rappresenti e che sia autentica, personale. Quali sono gli artisti, gli artisti dell'avanguardia europea a cui soprattutto pensi? Ma io... Anche insomma in un qualche modo ti amo. Ma se parlasse di una scala, diciamo, storica, io da Chagall a Kandinsky a Paul Klee e fino a Burri e Rauschenberg. Cioè, c'è tutto questo mescolato. Mescolato, messo nel crugiolo per poter creare una sintesi e una estinzione del mio linguaggio. È una novità, spero, anche che sia... Assolutamente. Anche questo del mio linguaggio. Tu fai parte di quegli artisti che dovrebbero in un qualche modo trasformare questa società che è una società che ormai sta veramente deteriorando. Purtroppo, sì, purtroppo siamo in un momento di avviso. Diciamo che rappresenti... Quegli artisti che creano una speranza per un futuro che non sia soltanto spettacolare per quanto le tue mostre siano fortemente spettacolari ma non fine a se stesse. Ecco, quello è il problema. Sì, ma come qualsiasi linguaggio, ogni sinfonia ha del crescendo, ha delle esplosioni espressive, ha dei spazi soffici, dei silenzi. Insomma, nel mio linguaggio io amo molto assimilare o di paragonare il mio lavoro come la creazione sinfonica. Queste trasparenze che vengono spesso nel tuo lavoro, che senso hanno? Sono la luce da dentro che si emana sul mondo. Sono qualcosa che hai dentro, che tu senti che sei in debito alla tanta bellezza del mondo, a quello creato che è. Che è una luce che hai, che si ha all'interno. Io penso che sia un'immanazione di quella luce che abbiamo dentro tutti quanti. E quel bello che abbiamo in quanto equilibrio, armonia, rispetto, etica. Tutto questo che... Quando parlo di bellezza parlo di questo aspetto, che è in fondo è contraposizione con una società di consumi, una società di globalizzazione, di questo progetto di globalizzazione che purtroppo ci sta portando all'abisso. Sì, proprio oggi sul Corriere è venuto fuori un articolo sui giovani, che hanno perso qualsiasi senso del valore delle cose. Sai che bisogna avere memoria, Marco, caro Marco. Bisogna conservare la memoria. Aver memoria vuol dire avere dei riferimenti. Perché qual è la memoria? La memoria è quel rapporto affittuoso che abbiamo con... Ma io lo dico anche in modo semplice. Cioè il piatto che ti faceva, che amavi molto la domenica andare a mangiare dalla nonna o dalla mamma. Anche questa è memoria, questa è emozione. Questa è piccola storia. Quella che ci rende... Però sembra che l'Occidente l'abbia dimenticato, siamo pieni di supermercanti... È troppo distratti, siamo troppo distratti, purtroppo. Cioè dalla nonna non si va più e si va in fast food a prendere qualcosa di già pronto. La memoria è quella che ci conserva lo stratificato, quel sedimentato storico. Sia delle piccole storie nostre o le grandi storie. E questo cosa ci aiuta? Ci aiuta a avere sintesi, avere ampliamento, creare ampliamento, creare civiltà. Questo è importante. Una domanda che faccio anche a te. Sì. Cosa cambia se da Cristo si passasse a momento? Ma io, allora, io penso che nel mondo, e l'uomo sempre ha vissuto, aveva bisogno di un pensiero alto. E quindi, sia la filosofia, vede anche il pensiero alto, io lo leggo alla filosofia, alla meditazione, a la ricerca delle religioni di trovare un equilibrio nel mondo, una cifra di convivenza tra gli uomini, e una cifra di armonia, di rispetto. Cioè, il problema della spiritualità non cambia, questo è il senso. Ma la spiritualità è quella ricerca di rispecchiamento. Ecco, qui abbiamo cambiato ambiente, e qui dove siamo? E qui siamo nell'ultima sala che è quasi il crugiolo, è il punto creativo dove nasce tutto, dove c'è il volcano che si raffredda nelle varie sale e va in gradazione e diventa... Queste terre che tu usi, queste terre che tu usi, questo è un bronzo per esempio, quel pezzo. Ecco, queste terre colorate, che origine hanno? Ma queste terre sono dei contrapunti musicali, sono dei toni, sono ovviamente bene dell'umanità, sono bellezza, sono un portato del mondo, sono... ci legano, cioè, quel colore mi porta a vedere una spezia, cioè, degli spezia, delle cose, dei beni del mondo, delle bellezze, della vita, qualcosa che è legato... Il film è finito, io credo che tu ti siano spesso bene, se sono soddisfatti di quello che è bello. Spero, però sai, ripleghi, quindi... Sì, mi sembra di aver parlato, diciamo, dell'argomento. Ecco, diciamo così, che ecco qui il metano, così allora... Sì. Diciamo che ci rincontriamo per vedere altri filmati e commentarli insieme. E vedere come mi hai montaggiato, montaggio... Non si preoccupi, Shafiq. Sì, grazie maestro. A te, ciao. Ciao.